Tvm per Bly Levens allora, Telecom per Lombardi, ma non sono soltanto loro, Ucciacoff adesso. Attenzione, attenzione perché il pubblico in questo momento ha creato pericolo, veramente rischio. Avete visto qualcuno in mezzo alla sede stradale, tutto sembra almeno nelle prime posizioni procedere, comunque per il verso giusto. Adesso ai 500 metri ancora Ucciacoff, Ucciacoff che pilota e cerca il capitano, cerca Bly Levens per la volata, si arrabbia Ucciacoff. Era convinto di avere Bly Levens o qualcun altro di avere la ruota, adesso si è come indispettito per l'inutile lavoro di Ucciacoff, mentre Vail ancora la volata, in festina per Wurz. C'è Guidi, Guidi in testa. Guidi, 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 Cmile Guidi. Guidi, 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 vittoria di Guidi alla vuelta, primo italiano che mette la sua ruota davanti agli altri in questa corsa spagnola. La felicità di tutti gli uomini polti, avete visto, bravo Guidi. Grazie a tutti.